Perché per scalare il business non è necessario sviluppare nuove competenze tecniche. Ciao e benvenuto all'interno di un nuovo video qui su questo canale. Mi raccomando se ancora non l'hai fatto iscriviti ma soprattutto attiva la campanella delle notifiche per non perderti i prossimi contenuti. Soprattutto ti chiedo un like a questo video per farmi sapere se sei ancora interessato a ricevere altri contenuti che riguardano il mindset, la strategia ma soprattutto tutto quello che riguarda il percorso di un imprenditore quindi come costruire un business, come scalarlo, come delegarlo. Se poi non mi conosci il mio nome è Roberto Maria Vadalà e sono la massima autorità in Italia in tema di riprogrammazione mentale. Non a parole ma con i fatti, per cui ecco i fatti. Sono un consulente certificato della società di Bob Prottor, sono l'unico consulente certificato in Italia che ha ricevuto il riconoscimento Pinsilver. Sono uno studente di successo di Bob Prottor, infatti sono l'unico studente italiano che ha rilasciato un'intervista sui suoi canali ufficiali. Durante quell'intervista ho raccontato quelle che sono state le tappe salienti del percorso che mi hanno portato da 0 a 100.000 euronetti al mese. E sono ovviamente il fondatore della VMR Consulting, che è l'azienda leader nel mercato italiano della formazione specializzata nell'applicazione della riprogrammazione mentale al business. Quello che facciamo è supportare i nostri studenti attraverso un percorso che combina il meglio del mindset e il meglio delle strategie per costruire, scalare e delegare il loro business di successo. E in questo video voglio proprio parlare di questo. Voglio parlare di scaling, ma soprattutto voglio aiutarti a capire quello che è il classico errore madornale che purtroppo la maggior parte degli impeditori commette. Errore che costa caro perché di fatto gli impedisce di scalare e di far crescere il loro business. E mi sto ovviamente riferendo a questa abitudine molto diffusa, veramente instillata nella mente di tutti, nessuno escluso, cioè l'idea che per ottenere un risultato sia necessario sviluppare delle competenze. Siamo talmente ossessionati da questa idea perché siamo cresciuti con questa idea dal credere che ogni volta che dobbiamo raggiungere un certo obiettivo l'unica cosa che dobbiamo fare è imparare il come, sviluppare e magari perfezionare una certa competenza per appunto essere in goi e ottenere questo risultato. Per cui facciamo prima un salto indietro, un salto temporale, all'inizio della tua vita per farti capire come si è creata questa idea, questa abitudine. Beh, fondamentalmente dovresti ringraziare mamma, papà, tutti i tuoi familiari e tutto quello che hai appreso a scuola e nel mondo del lavoro. Perché queste sono le tre fonti principali da cui si origina il sistema di credenza di ogni persona. E se ci penso un attimo, quando eri piccolo, in casa sicuramente ti erano detto di andare a scuola e di studiare. Quando andavi a scuola la messa ti ha detto di impegnarti, di studiare di più, di studiare ancora e ancora di più, meglio, per migliorare i tuoi risultati. E la cosa assurda è che quando sei entrato nel mondo del lavoro la solfa non è cambiata, gli hanno detto che dovevi reimparare da capo il learning by doing, lo specializzarti, fare l'NBA, questo e quell'altro, per avere una promozione, per fare uno step in più nel tuo percorso di carriera. Per cui è normale che tutti quanti siano ossessionati dall'idea che l'unica cosa che conta sono le competenze tecniche. E se ci pensi un attimo potrebbe anche sembrare logico, no? Cioè dire, eh ma scusami, come faccio ad avere un certo risultato se non so prima cosa fare e come farlo, no? Magari in questo momento per te potrebbe essere così. Quindi fammi sapere nel box dei commenti se in questo momento per te è logico, razionale, credere che sia necessario avere le competenze per fare le cose. Ecco, voglio aiutarti a sovrascrivere questa idea, ma prima di farlo devo spiegarti perché questa abitudine può risultare un blocco enorme per lo scaling del tuo business. Beh, per un semplice motivo, perché un imprenditore che scale il suo business è un imprenditore che è sempre meno concentrato sull'operatività del suo business e sempre più invece focalizzato su quella che è la strategia. Per cui da una parte abbiamo l'imprenditore operativo che evidentemente deve avere delle competenze perché deve fare le cose, no? Quindi è un imprenditore che deve essere competente nel marketing, nella vendita, nell'erogare la consulenza, nel fare insomma quello che serve per mandare avanti la baracca, per produrre quel bene o per erogare quel servizio da cui poi fondamentalmente guadagna quello che è il suo profitto. Dall'altra parte invece abbiamo l'imprenditore strategico che come dice la prova la stessa si concentra sulla strategia. Ecco, strategia evidentemente non ha a che fare con le competenze tecniche, no? La strategia è una cosa, le competenze tecniche sono un'altra. C'è qualcuno che pensa, che sviluppa una strategia e c'è qualcun altro che con le sue competenze implementa la strategia. Al che a questo punto pensi di dire, vabbè Roberto, ok, ho capito, quindi insomma devo prima definire una strategia e poi preoccuparmi di avere le competenze per metterle in pratica. Errore, errore madornale. Pensaci un attimo. Pensa a tutte le grandi aziende nel mondo. Pensa alle società guadate in borsa che hanno la maggiore capitalizzazione. Pensa ad Apple, a Tesla, a Google, a Facebook. Insomma, pensa a qualunque multinazionale di successo. Che cos'è che caratterizza? Qual è il fattore comune che caratterizza tutte queste aziende? Qual è? Te lo dico io? Dai, te lo dico io. Sono i collaboratori. Sono i dipendenti. Sono tutte aziende che hanno decine di migliaia, se non centinaia, di dipendenti. Sai perché hanno dipendenti? Perché c'è qualcuno che deve fare le azioni. Quindi in realtà le competenze ce le devono avere i dipendenti, i collaboratori. Coloro i quali operativamente mandano avanti la baracca. Si preoccupano che nel quotidiano vengano svolte le azioni nel miglior modo possibile. Ma tu non sei un dipendente. Tu non sei un collaboratore. Tu sei l'imprenditore. Ecco, questo è il punto saliente. Questo è il cortocircuito se vuoi veramente cambiare i tuoi risultati, se vuoi veramente scalare il tuo business. Devi incominciare a switchare attitudine. Il tuo approccio non può essere più quello di essere il massimo esperto, il massimo competente all'interno del tuo business, colui il quale ha la competenza, perché per quello ci sono i collaboratori. Devi switchare in virtù di un nuovo ruolo che è quello che devi assumere, che è quello dello stratega, che è quello dell'essere pensante, della persona che all'interno della tua azienda si preoccupa di capire come crescere. E capire come crescere non implica avere una competenza. Capire come crescere, trovare la strategia migliore per crescere, ha a che fare con tutto tranne che con le competenze. Non devi essere competente in una specifica attività per capire cosa fare per crescere. Questo ci porta un po' a quella che è veramente il vaso di Pandora da scoperchiare, che ti fa capire perché la maggior parte degli imprenditori là fuori non riesce a crescere. C'è una statistica particolarmente interessante che descrive quello che è l'andamento dei business nel mondo, ma ti assicuro che se lo volessimo contestualizzare all'Italia il numero non cambierebbe, anzi probabilmente peggiorerebbe. E questo numero è 96. 96%. Il 96% dei business là fuori non riesce a superare il milione di fatturato annuo. E dentro 5 anni sono tutti i business destinati a morire. Se prendiamo l'Italia come riferimento, quello che scopriamo è che una partita IVA in generale non dura più di 5 anni. Perché? Perché la maggior parte degli imprenditori là fuori non riesce a fare questo switch. Non riesce a capire che magari all'inizio, quando si è da soli, quando magari non si hanno tutte le risorse necessarie economiche per poter acquisire collaboratori all'esterno, per carità è necessario avere qualche competenza. Ho detto qualche, non tutte. Però più vai avanti, più ovviamente questo discorso cambia. Quindi più vai avanti, più vuoi scalare il tuo business e più vuoi salire la piramide ricchezza, più ti renderai conto del fatto che in realtà non sei tu il competente nel tuo business, sono i tuoi collaboratori. Ed è per questo che li paghi ed è per questo che ti preoccupi di farli performare al meglio. Il tuo compito è un altro, il tuo compito è quello di fare l'imprenditore. Per cui analizzando la piramide della ricchezza, e c'è un video che ti invito a guardare all'interno di questo canale dove ho raccontato il modello della piramide della ricchezza 2.0, c'è un qualcosa che emerge. La capacità dell'imprenditore che scala, che raggiunge le vette della piramide della ricchezza, di perdere il controllo dell'operatività, di non essere più costantemente e perennemente invischiato in tutte quelle attività quotidiane, giornaliere, che ci sono all'interno del proprio business. Ecco, questo ti fa capire perché le competenze tecniche non sono più importanti. Attenzione, non sto dicendo che non sono importanti e che non dovrebbero esserci all'interno del tuo business. Quello che sto dicendo è che non dovresti essere tu il competente, che è una cosa molto diversa. Per cui ti racconto un po' quello che è il passaggio che sto vivendo in questo momento all'interno della VMR Consulting. Un passaggio che ci sta portando da un'azienda da 7 figure l'anno a 8 figure l'anno. Per cui io l'anno scorso, 2022, ho guadagnato 1.700.000 euro. E se vuoi, anzi fammelo sapere tramite un commento, ti posso raccontare qualche dettaglio in più di come ho raggiunto questo risultato e della trasformazione che ho dovuto apportare. Ma adesso, per continuare a scalare, sto ovviamente apportando delle ulteriori trasformazioni, degli ulteriori cambiamenti e mi sto rendendo conto del fatto che oggi, se dovessi fare una fotografia di quello che è la mia azienda, quello che emerge è che io non ho alcuna competenza. Non esercito alcuna competenza. Mi vedi qui fare dei video, ma a parte questo, sono i miei collaboratori ad avere le competenze. Per cui c'è un team che si occupa del marketing ed è lì che c'è la competenza specializzata. C'è un team che si occupa della vendita ed è lì che c'è la competenza specializzata. C'è un team che si occupa dell'organizzazione, quindi del definire i processi, le procedure, i sistemi che devono essere eseguiti all'interno dell'azienda ed è lì che c'è la competenza specializzata. Il mio compito non è, ti dirò di più, c'è anche un team che si occupa di erogare i prodotti e di erogare le consulenze, quindi non c'è neanche lì la competenza specializzata, non è qualcosa che ho io. Per cui la trasformazione che ho dovuto apportare, che mi ha permesso di scalare, se la volessimo sintetizzare la possiamo contestualizzare a due fondamentali variabili. Da una parte la mia capacità di perdere il controllo e di distribuire quelle che all'epoca erano le competenze che ho dovuto sviluppare verso i miei collaboratori ai quali ovviamente ho dovuto delegare l'operatività. L'esempio più emblematico che mi viene in mente è Willy e Fabiana, che sono i due consulenti certifiati della VMR Consulting, che sono coloro i quali oggi posseggono la metodologia che io ho sviluppato, quindi la competenza inizialmente l'origine da io, ma adesso è nelle loro mani e sono infatti loro che erano le consulenze. Dall'altra parte, ed è questa la seconda variabile che non puoi assolutamente sottovalutare se vuoi veramente continuare a scalare, è la tua capacità di attrarre collaboratori che sono effettivamente possessori di competenze specializzate che in questo momento ti mancano. Potrebbe essere il marketing, potrebbe essere la vendita, potrebbe essere come dicevo prima l'organizzazione, potrebbero essere altre competenze che magari sono specifiche del tuo business, del settore in cui operi, ma resta il fatto che anche questo è un punto molto importante. Quindi questo ti fa capire come effettivamente il tuo compito non sia quello di tornare sui banchi di scuola a studiare il libro, il corso, il seminario per sviluppare la competenza di turno. Il tuo compito è quello di assumere un ruolo diverso, quello magari del ricercatore dei collaboratori, quello magari di capire come entrare nella loro mente e aiutarli a performare al meglio, quello di guardare dall'alto il tuo business e capire quali sono eventualmente le aree che necessano di un miglioramento, di un'ottimizzazione, quali sono le strategie da porre in essere per far crescere, qual è la visione, qual è l'obiettivo, il nuovo obiettivo aziendale. Quindi sono tutte tematiche che hanno una valenza fondamentale quando si vuole scalare, ma sono tutte tematiche che ovviamente non hanno alcun tipo di legame con la competenza specializzata, con la necessità di diventare più competente rispetto a prima. Ecco, l'approccio che ti ho appena descritto mi rendo conto è un qualcosa di molto distante da quello che è il modo comune di pensare della maggior parte delle persone là fuori, che sono effettivamente convinte che sì, devo avere più competenze di prima se voglio migliorare i miei risultati. Ora, non voglio professarmi come colui il quale possiede la verità assoluta, anche se in realtà non sarebbe neanche sbagliato come concetto, ma voglio semplicemente invitarti a pensare, ed è per questo che ti invito a guardare il video se ancora non l'hai fatto, a quello che è il modello della piramide della ricchezza. Un modello che sostanzialmente ci dice che il 95% non ha capito una beamata fava. Cioè, il 95% degli imprenditori là fuori ha un modo di pensare di fare business che è profondamente sbagliato ed è la ragione per la quale non riesce a diventare ricco. Cioè, soltanto un 5% rappresentato dalle ultime due fasce della piramide della ricchezza, rispettivamente gli imprenditori strategici e i messi di eccellenza, che sono veramente imprenditori che hanno capito qualcosa, che hanno ottenuto risultati, che hanno ottenuto la ricchezza. Ebbene, se analizziamo questi due profili, il imprenditore strategico e il maestro di eccellenza, quello che possiamo vedere sono persone, sono imprenditori, che non hanno competenze specializzate, o quantomeno magari hanno delle competenze ma comunque non le esercitano in prima persona. Ecco quindi qual è l'errore matornale che impedisce alla maggior parte degli imprenditori di scalare il proprio business. Il non capire quelli che sono i driver di crescita su cui dovrebbero focalizzarci. Questa è anche la ragione per la quale dico sempre che il successo è rappresentato per il 95% del mindset e per il 5% della strategia. E mi rendo conto che non sto dicendo niente di nuovo, mi rendo conto che sto dicendo probabilmente qualcosa che hai già sentito e ne mila volte, perché questo è un principio cardine che effettivamente senti dire a tutti coloro i quali hanno ottenuto risultati, ma effettivamente se tutti coloro i quali hanno ottenuto risultati parlano di queste due variabili, strategia e mindset, ci sarà effettivamente un motivo per cui se vuoi essere anche tu un imprenditore di successo, se vuoi anche tu scalare il tuo business, se vuoi anche tu raggiungere la piramide ricchezza, e beh queste qui sono le due variabili su cui li devi concentrare, mindset e strategie. Ora da questo punto di vista mi rendo conto che probabilmente all'ascolto ci sono persone che hanno un certo liro di consapevolezza e che per certi versi hanno maturato, hanno maturato, stanno maturando la consapevolezza necessaria per rendersi conto che sì, è arrivato il momento di lavorare sul mio mindset, sì, è arrivato il momento di lavorare sulla mia strategia. Ecco, per queste persone sono sicuro che la domanda adesso è cosa devo fare, come devo farlo. Ecco, non posso darti una risposta perché non è questa la sede opportuna per farlo, ti posso però sicuramente dare dei consigli che con fido farai i tuoi e metterai subito in pratica. Prima di tutto iscriviti al canale e attiva la campella delle notifiche, questo ti permetterà di essere notificato su quelli che sono i prossimi contenuti che pubblicherò su questo canale. Ci sono ancora un sacco di video che ho in programma di pubblicare, video che sicuramente ci porteranno ad approfondire ancora di più tutte quelle che sono le tematiche più importanti che riguardano lo scaling, la delega, la crescita aziendale. Dopodiché ti consiglio spassionatamente di seguirmi su tutti quanti i social perché è vero che in questo momento non posso darti la soluzione ma questa condizione sta per cambiare molto velocemente per cui ci stiamo avvicinando all'introduzione di una soluzione definitiva per tutti coloro i quali vogliono scalare e delegare il proprio business per cui ti invito a seguirmi su tutti quanti i social per essere il primo a sapere quando questa fondamentale, importantissima, preziosissima soluzione sarà rilasciata al mercato. Dopodiché mi raccomando iscriviti al canale, attiva la campanella notifiche e noi ci vediamo al prossimo video. Fai il tuo gioco e come sempre al tuo successo. Ciao!